Il rappresentante legale del Comitato Civico ed Ambientale di Battipaglia, Cosimo Panico, con una missiva protocollata ed inviata al Sindaco di Battipaglia Cecilia Francesi e alla Segretaria Comunale Brunella Asfaldo, chiede il difensore civico, un'esigenza che nasce dal gruppo di Panico. L'ente non dà risposte alle richieste dei cittadini ed è per questo che chiediamo di ripristinare il servizio della difesa civica, istituendo la figura del difensore civico territoriale. Ed ancora, nella lettera si legge, il Comune di Battipaglia può valersi del proprio ufficio di relazioni con il pubblico per agevolare la possibilità di ricezione e di segnalazioni circa eventuali disfuzioni o disorganizzazione dell'intero della pubblica amministrazione. L'ente, insomma, potrebbe nominare un garante a difesa dei cittadini.